Un mondo di pura magia, divertimento, arte e scoperta. È così che la terza edizione della Cittadella dei Balocchi trasformerà il cuore della città murata da sabato 30 settembre a domenica 1 ottobre. È un evento, noi lo diciamo per i bambini, ma è un evento per tutti, per le famiglie, perché per un weekend, entrando nelle mure Cittadella, anche i grandi si possono sentire di nuovo bambini. Maschere, costumi, attori in ogni angolo del centro. Per due giorni il borgo diventerà una vera e propria città incantata, attese più di 10.000 persone con un programma che spazza da laboratori, attività ludiche e spettacoli teatrali. La caccia al tesoro o un suggestivo trenino che ci racconterà una fiaba su Cittadella, ma sorprese in ogni punto della città, anche nelle vie, quelle da scoprire. Ed è così che il centro città diverrà un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto. Ci sarà un mondo magico, incantato, dove ci sono scenografie grandi, grandi allestimenti, attività per tutti, sia per i genitori che per i bambini. E quindi il nostro hashtag, il nostro motto è proprio Torna Bambino. Quindi c'è da aspettarsi due giornate di giochi e grande, grande divertimento, insieme, vicini e soprattutto con la voglia di condividere delle belle esperienze. Torna Bambino